Allarga le braccia Allarga i bracci Guarda dritto Guarda su Guarda su Guarda su Guarda su Abbassa un po' questo Ok, sta rinché Abbassa questo, fa lo scendere Fa lo scendere Non sopensare Mita il peso sulla tua sinistra Alla gamba sinistra Ok? Hai visto come è stato cambiato peso? Dai, già sei andato bene Seconda di scesa Vai, bravo Non girare più Guarda su Guarda su Guarda qua Guarda l'abbacchietto Guarda l'abbacchietto Bravo, guarda l'abbacchietto Allarga le braccia Perfetto, allarga le braccia Vai, vai, vai Vai che hai capito Allarga le braccia Guarda su Guarda su Guarda su Guarda su Gira lo sguardo verso di là Ok, guarda che si è addrizzata la tavola Guarda Boom Lamina avanti Questa è la lamina avanti Mi hai capito quale è la lamina avanti Mi hai capito quale è la lamina avanti Ok? Mi piace E' facile Se segui 4 regolette è facile Abbiamo fissato lo giro Eh Chiari, guarda Stavate più cappi di chiappe nuove Eh Se da un ragazzo è tornato con le chiappe quadrate a casa Non è molto come dire il culo Impara a non cadere A fermarla Per questo stai insegnando a Grazie